L'UNESCO City Marathon L'UnESCO City Marathon si correrà domenica prossima, 26 marzo. A rappresentare i siti UNESCO della città metropolitana di Napoli, Ben 5, Pompei, Ercolano, Torri Annunziata in Napoli, oltre ai gigli di nola, sarà Isabella Bonfiglio, consigliera di parità dell'ente di piazza Matteotti, che coglierà l'occasione anche per difendere i diritti delle donne. Spero veramente che diventi il veicolo anche di emancipazione della donna, questa è una cosa importante, possiamo avere il riscatto delle donne attraverso lo sport.